Sulla scia del successo delle iniziative già organizzate parte un nuovo ciclo di formazione per amministratori e dipendenti pubblici organizzato da ANCI e da IFEL? Sì, noi abbiamo detto che era un ciclo sperimentale, quello che abbiamo sviluppato negli ultimi mesi. Oggi parte un nuovo ciclo, ci auguriamo che sia, che ottenga altrettanto successo, altrettanto riscontro, con lo stesso obiettivo, quello di sensibilizzare i nostri amministratori rispetto alle opportunità che i fondi europei danno loro, danno a tutti noi. Saremo ad Asti, saremo a Verbagna, saremo a Torino e ci sono già tante iscrizioni, quindi la sollicitazione che va nei confronti sia dei nostri amministratori, sia dei funzionari e dipendenti dell'amministrazione pubblica è quella di partecipare perché davvero si possono scoprire opportunità attraverso quella professionalità che i nostri relatori possono mettere a loro disposizione. Europe Direct è con noi, IFEL, Città Metropolitana, insomma tutti i soggetti che hanno maturato in questi anni una grande esperienza, una grande professionalità che noi confidiamo attraverso la mediazione di Anci, il rapporto di Anci con i territori e la funzione che la nostra associazione svolge in Piemonte e confidiamo che questa professionalità e questa esperienza possa essere messa a disposizione di tutti perché le opportunità sono tante e noi vorremmo che fossero colte nel modo più proficuo per tutti. Il primo appuntamento è lunedì 21, ricordiamo che Anci offre gratuitamente l'iniziativa ai propri iscritti. Sì, Anci fa quello che è giusto fare, in particolare noi siamo consapevoli che le amministrazioni grandi, i comuni grandi hanno una struttura adeguata, hanno competenza, hanno esperienza su queste tematiche. Siamo altrettanto consapevoli che invece le difficoltà più grosse le riscontriamo per ovvie ragioni fisiologiche nei confronti di amministrazioni piccole e medio piccole. Allora noi ci rivolgiamo in particolare a queste amministrazioni, io credo che il ruolo di Anci sia quello di sensibilizzare in particolare le amministrazioni piccole e medio piccole sull'opportunità che i fondi europei offrono loro, offrono il sistema Piemonte in generale ma offrono in particolare a loro che hanno fisiologicamente ovviamente risorse meno adeguate delle amministrazioni grandi, quindi è a loro che ci rivolgiamo con questi corsi.